Radio Radicale, siamo con l'On. Giuseppe Fioroni che è stato in passato presidente della commissione d'inchiesta su Moro per parlare di Esterno Notte, che è una fiction di bell'occhio che è andata in onda in questi giorni sulla Rai. Allora, lei che si è occupato del caso Moro, volevo chiederle come ha trovato questa fiction. Io non sono un critico d'arte, tantomeno un critico cinematografico. Io ritengo che Esterno Notte vada valutato come una creazione dell'ingegno artistico, del regista, degli scenografi e degli attori che hanno fatto una interpretazione magistrale. Questo dal punto di vista artistico. Non è richiesto alla produzione artistica né rispettare la storia, né le verità storiche, né le indagini, né tantomeno i lavori della commissione, ma è frutto dell'ingegno e della creatività. Detto questo, non commetto altro su Esterno Notte. La cosa che credo sia invece importante è che chiunque, al di là della creazione artistica, si approccia alla vicenda Moro, ignorare i risultati di una commissione d'inchiesta che ci ha lavorato sopra quattro anni e mezzo, con un potere che mai nessun altro aveva avuto e con relazioni per la prima volta approvate all'unanimità da Camera e Senato, ben tre relazioni, credo che hanno fornito elementi dal non tamponamento di via Fani, alla presenza della RAF, al primo luogo dove c'è stato lo scambio delle auto e forse anche il primo covo di via Massimi, alle varie omissioni e a una serie di altri elementi infiniti che la commissione d'inchiesta ha tirato fuori che per amore di verità e per chi ha a cuore il rispetto della dignità e della storia di Aldo Moro e di coloro che se ne sono occupate, credo che sia bene farla conoscere, ma questo non è imputabile a chi ha fatto un'opera artistica della propria creatività. La vostra relazione è libera? La creatività è libera ed è libera che l'hanno fatta. Io credo che la Rai, che ha ritenuto opportuno giustamente mandare in onda, essendo notte, forse dovrebbe fare un approfondimento dei lavori della commissione e rendolo conosciuto al grande pubblico, che se no magari si convince che lì c'è stato un tamponamento, mentre il guidatore Ricci e Leonardo furono uccisi su un'auto in movimento. E se si toglie di mezzo questo, figuriamoci... La relazione era stata approvata all'unanimità? Sì, tutte e tre. No, perché poi noi all'indomani ci circolò un deputato della commissione Lavagno per dire... Lui solo, un voto. Ah, un voto, un voto. Ok, ok. Di astensione. Di astensione, ok, vabbè, però non era proprio... Beh, no, gli ho detto un'animità, dico di logica, perché l'astensione non è compara. Ok, va bene. Se non rammento male. No, 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 certo, certo. Le volevo chiedere un'altra cosa. Come è stata presentata la democrazia cristiana e gli uomini della democrazia cristiana, a suo modo di vedere? Ma sempre nell'opera artistica. Certo, nell'opera artistica. La creatività, se io avessi fatto il critico cinematografico, il chimio di realtà, l'avrei detto. Io non posso cercare le verità storiche o le corrispondenze storiche in un'opera frutto della fantasia, della creatività e dell'ingegno a cui non è chiesto di attenersi né alla verità né alla storia. Ma senta, lei non pensa che domani, no, chi andrà a cercare notizie sul caso Moro e vedrà questa cosa qui, penserà che le cose sono andate come ce le ha raccontate Bellocchio e non come la cronaca ci ha raccontato realmente. Io credo che coloro che studieranno andranno a vedere i lavori di una commissione d'inchiesta di un Parlamento della Repubblica con i poteri della magistratura, sia inquirente che giudicante, approvato. ci sono gli atti di centinaia e centinaia di pagine e tre relazioni che danno la versione più avanzata dello stato delle indagini. Io mi auguro che per vedere un film uno si studi gli atti che hanno dovuto perseguire la verità dei fatti e non la creatività. Lei si è chiesto che cosa sarebbe successo in Italia se Moro fosse sopravvissuto a quel rapimento, così come ce l'ha raccontato. Io credo che a noi compete ragionare sui fatti, se no anche noi faremo una libera Ma ci ha mai pensato? Io ho pensato a se Moro non fosse stato rapito e poi ucciso. Il percorso della democrazia italiana, non della democrazia cristiana, sarebbe cambiato perché Moro rappresentava l'architrave del sistema democratico italiano e aveva messo in piedi un forte processo di rigenerazione democratica della qualità della democrazia italiana e questo avrebbe consentito di non trovarsi nel quadro in cui ci troviamo oggi. E chi ha ucciso Moro, le Brigate Rosse e le omissioni di coloro che potevano intervenire e non sono intervenute e che sapevano e non hanno detto, ha consentito appunto di bloccare un processo di rigenerazione democratica di cui l'Italia aveva bisogno allora e ancora non l'abbiamo risolto oggi. Gli dà un voto all'opera dell'artista? No, ottimi attori. Anche Paolo VI. L'ha fatto vedere un po' Arzillo Paolo VI perché stava per morire. Abbiamo visto un Paolo VI che stava in forma. L'adrenalina, un ottimo impegno degli attori e di tutti coloro che ci hanno lavorato ma io non sono all'altezza di giudicare un'opera d'arte. Faccio il medico e poi per il resto ho fatto il politico e il presidente della commissione inchiesta. Ma sono questi tutte e tre missioni diversi. Se ognuno facesse il suo eviteremmo confusione. Vabbè, grazie all'onore Fioroni. Grazie.